Grazie a tutti. E' un progetto anche molto importante perché non è solo l'unione di esperti, ricercatori di tutta Europa che si sono messi insieme appunto dall'EAD2 e che fanno parte anche del progetto OMO, questo progetto che ha come obiettivo proprio quello di fare una riflessione su quello che devono essere i mucchi in Europa. Ma secondo me è molto importante perché se lavoriamo bene insieme sia oggi che domani forse riusciremo a tracciare delle linee che distinguono un po' l'Europa da quello che avviene nel resto del mondo. Non dobbiamo dimenticarci che oggi il titolo infatti del mio breve speech è l'imperialismo culturale dei mucchi degli Stati Uniti. Qual è invece il modello dei mucchi europei? Come l'Europa unendosi al mondo arabo ma anche all'Africa secondo me, alle grandi università di questi paesi, può oggi contribuire realmente a una libera circolazione del sapere. E' un momento importante perché la grande moda dei mucchi che ha riempito le pagine dei giornali nazionali e internazionali dal 2013-2012 in poi e quindi le grandi stanno subendo dei cambiamenti significativi e importanti negli Stati Uniti. Noi sappiamo che è partita dagli Stati Uniti questa moda e che abbiamo quindi le grandi università come Stanford, come le MIT, come Harvard, Berkeley, sono tutte università che hanno creato dei consorsi più o meno in modo diverso, hanno creato delle start-up, adesso stanno creando le start-up. Hanno soprattutto cercato di mettere online questi materiali didattici, non solo video-lezioni, ma materiali didattici. E qui è una prima riflessione da fare. Una prima riflessione da fare riguarda i 139 patiner di Corsera e i 1480 corsi che oggi ha e soprattutto i 16 milioni di iscritti, così dichiara Corsera. Invece abbiamo poi Udacity che ha praticamente raggiunto i 4 milioni di iscritti e anche ed ex i 5 milioni di iscritti. Di questo numero di iscritti loro si fanno un gran vanto, ce l'hanno appunto nelle loro home page, il traguardo raggiunto. E io invece è qui che mi preoccupo, perché non è assolutamente possibile pensare che con i MOOC si fa la formazione, l'educazione, l'insegnamento, eccetera. Perché com'è possibile seguire i processi di apprendimento degli studenti quando loro stessi dichiarano che in alcuni corsi ci sono 10 mila studenti? Quanti tutori, quanti professori ci dovrebbero essere? Allora, e questo è il primo interrogativo che noi ci poniamo. Cosa sono veramente i MOOC? Cambiano, possono essere veramente quelli che sostituiscono i processi di insegnamento e apprendimento nelle università tradizionali o a distanza? Io metto un gran punto interrogativo su questo. E allora, quali sono comunque le problematiche che stanno emergendo? Le problematiche sono tipiche a volte di quello che stiamo anche vivendo per altri aspetti. Tipiche di quello che è la moda con cui si lavora all'interno di internet e della rete. È una moda che ha portato le persone a non riflettere molto su quelli che devono essere i modelli, e nel nostro caso i modelli pedagogici da utilizzare quando si crea uno strumento che ha come obiettivo quello di toccare la mente degli uomini e quindi di sviluppare processi di apprendimento. Sappiamo che molti di questi corsi, li abbiamo analizzati, di Corsera, di Odaciti, di Elixie, hanno delle teorie comportamentiste alla base di stimolo e risposta, un po' le modelli schineriani ancora, legati appunto a quella che era la formazione militare. E sappiamo che in alcuni casi, appunto, questi corsi, quando usano per esempio il video, non utilizzano nessun tipo di teoria per la comunicazione video per insegnare. Vedete dei video in cui non si riescono a leggere le cose che scrivono, o dei video che non hanno creato, uno strumento che permette realmente di riflettere su quali modelli pedagogici creare per creare un mucchio che abbia un valore. Allora, su questi punti mi vorrei fermare, ma ci sono altri aspetti molto importanti, perché ti fanno vedere come la spinta tecnologica, la spinta industriale, ha prevalso sulla spinta reale del vero valore della formazione e dell'educazione. E' il modello di business. Due anni fa, ma anche un anno e mezzo fa, tutti pensavano che erano gratuiti. Sapete bene, tutti dicevano che sono solo gratuiti. E invece i modelli di business che si sono sviluppati sono importantissimi. Non sono solo quelli che può pagare lo studente per prendere un credito. No, loro lavorano molto sui dati. Prendono tutti i dati degli studenti, studenti, ti creano, vedono i curriculum di queste persone e poi li forniscono appunto a quelle che sono le società che hanno bisogno di marketing e che hanno bisogno di conoscere quelle che sono le tendenze delle persone per sviluppare ancora di più questo marketing della rete che ci sovrasta sempre un po' dappertutto. Allora, è un momento di riflessione molto forte negli Stati Uniti, perché all'inizio si pensava che questi avrebbero potuto sostituire l'insegnamento superiore. Oggi molti grandi studiosi americani, anche il rettore di Stanford, ha cominciato a dichiarare che questo non può essere. Questo può essere un'aggiunta a tutto il sistema di insegnamento. Io dico, queste sono le nuove enciclopedie del sapere, possono essere, o nuove forme di libri. Pensate, quando sono nati libri, noi non abbiamo sostituito l'università, non abbiamo tolto le scuole. Oggi abbiamo uno strumento che è nata la stampa, si sono incominciati i libri. Oggi c'è internet e c'è un modo nuovo di creare dei materiali multimediali interattivi sulla rete che aiutano, che comunicano, sapere e conoscenza, così come è stato fatto con il libro. Quindi non è l'istrumento con cui si modificano e si cambiano le università. Però può diventare estremamente importante. Come vi dicevo prima, l'importanza adesso è nei numeri, anche nei dati. Per esempio, noi stiamo iniziando una ricerca che credo sia molto importante, come del resto stanno facendo a Stanford. Pensate, 300 ricercatori sono stati messi per analizzare i dati, anche dal punto di vista pedagogico. I dati che stanno analizzando a Stanford riguardano proprio quali devono essere gli strumenti, cioè quali tipi di valore può avere questo strumento per lo sviluppo e quale tipologie di apprendimento riescono a sviluppare. Quindi sono tutti dati che saranno estremamente utili per creare una nuova didattica, un nuovo modo di operare, di creare appunto conoscenze, ma di creare formazione all'interno della rete. Questo è sicuramente un elemento importante perché fra un paio d'anni potremmo avere dei risultati che ci aiuteranno tutti a usare la rete sempre in modo più corretto e mai improvvisato, specialmente quando si tratta di educazione. Noi qui dovremmo creare la carta di Roma sui MOOC. È molto importante dal punto di vista politico. Io credo che il modo come sta lavorando già l'Europa è molto diverso da quello degli Stati Uniti e ringrazio molto le ADTU perché hanno già usato un modo in cui rispettano l'autonomia, la libertà, la differenza delle università. Non hanno delle piattaforme rigide, standard, che tutti devono utilizzare solo quella per inserire il loro MOOC, ma hanno creato una piattaforma aperta in Europa in cui ognuna, secondo le proprie metodologie, secondo il proprio lavoro di ricerca che ha fatto, può inserire questi MOOC. Certo, noi abbiamo, e quindi la piattaforma di Open AppNet è un esempio di questa flessibilità estremamente importante perché dobbiamo capire che non abbiamo ancora certezza o verità di come possiamo dare il meglio nell'uso della tecnologia per sviluppare processi di apprendimento con questi modelli di MOOC. E questa è la prima cosa importante. Sono nate anche altre società, Future Learner e altre, che stanno sviluppando i MOOC in Europa. Ma io credo che la cosa più importante che può fare oggi l'Europa e l'ADTU in questo può avere un ruolo molto importante perché l'associazione di tutte le più importanti università a distanza d'Europa è quello di creare un MOOC europeo, ma non solo, di mettere insieme università tradizionali, università a distanza dell'Europa e guardate qui la nostra sfida, del mondo arabo e dell'Africa. E' insieme a loro che noi dobbiamo metterci in questo mercato globale della formazione. E' bruttissimo il discorso del mercato globale, ma se l'Europa fa una scelta di qualità sui propri contenuti, le migliori università europee mettono insieme questi contenuti con metodologie che abbiamo già studiato e che possiamo già dare come supporto a questa tipologia di mettere insieme questi contenuti, veramente noi abbiamo fatto un grande salto di qualità e abbiamo soprattutto insegnato che l'imperialismo culturale in questo momento storico non è certamente un bene. Noi dobbiamo partire da un altro modo di concepire, non dobbiamo essere i primi della classe, ma dobbiamo essere i primi a creare insieme collaborazione, per creare insieme contenuti, per condividere insieme i curricula. Il mondo ormai è globalizzato e interconnesso e questo non ci può non far riflettere su come deve essere utilizzata la tecnologia che mette insieme popoli e mondi di culture, di religione, di politiche diverse, ma non prepara nessuno di questi a conoscere questi mondi. Ci vediamo, viviamo una globalizzazione senza la conoscenza dell'uno e dell'altro. E allora i mocchi in Europa che partono anche dalla conoscenza delle altre culture, degli altri paesi e degli altri popoli diventerà sicuramente uno strumento con cui noi possiamo portare avanti un nuovo modo di concepire il sapere, una nuova forma democratica di diffusione della conoscenza, democratica perché c'è il rispetto degli altri, delle differenze culturali e non le escludiamo, ma le inseriamo e le mettiamo in confronto con le nostre. E questo è l'augurio che io faccio a questa conferenza e credo che se usciamo con la Carta di Roma, una Carta di Roma che porta avanti questa idea con forza e saremmo aiutati dai nostri governi ma anche dalla stessa Europa, vinceremo la sfida dell'imperialismo culturale che in questo momento invece abbiamo dettato dagli Stati Uniti. Grazie. Applausi We are trying to... I have a few things to share with you today, but before we go there, I think the general approach the government is using on these issues is basically that we started with schools, as you were mentioning, and we passed legislation last July, a fully fledged reform of the school system in Italy, and meanwhile we are trying now to move on with universities and research and to see on the one side what needs to be updated in a sense and on the other side to try to fix this with the current wider and more general as Professor Garrido was referring before, context we are living in. And that's why we believe that things that you are doing, you know, meetings like this one and which we don't believe is just a meeting, I mean it's much more, but it's in a sense it's a point in time in which we all together can gather and have vision and ideas and a sense of direction of where it's most likely that a number of things are going and how we can address these issues from the government perspective, from the ministry perspective is extremely important. Now, first of all, what we like about, you know, occasions like this one that you have organized is that they approach important issues in a comprehensive way. We believe we don't need anymore, you know, we need to be holistic to some extent and we need to understand how we can tackle important issues from different perspectives and of course we are grateful to Professor Garrido for having organized all this and Union of Tune, as you know, better than I do, is a point of reference for online universities over the last, has been so for the last few years in the European Union and in the Mediterranean area and this I think is important because there is a sense of geopolitical strategy into everything we are saying today and this morning. We like a lot that this is a chance for gathering together so many prominent experts in the field of massive online courses in Rome and it's also timely because as I was mentioning before it's timely in terms of what's going on outside this building and outside this room but also it's timely with the government approach and strategy on a number of issues that are strictly related to the challenges of education nowadays. The first issue that I would like to raise is that we need to discuss a bit about the education in the digital era. There are still too many references sometimes in terms of of how we bring digital to schools or to university I think is a little bit different is that it we're around. It's how we bring schools and universities to the digital era. I mean it's not just the last nice thing that we need to bring to kids or to students but it's how we update basically our education system. So it's a change in perspective which is quite strong. And of course when we speak about this we recognize that there is a technological dimension into that. And of course that the most important I mean that technology is basically the enabling factor the key factor there but at the same time I think it's definitely not enough and probably it's not definitely the most relevant part of it. I mean technology has always changed many things if you think about the last century but the difference between when those technologies were definitely used to improve quality of life learning methods whatever I would say was not something that was given for granted because of the technologies because there was a sense of how you bring that technology into society. and I think here when we are talking about distance learning it's again a question of what are the implications what is the epistemological foundations of this. And in this I mean I would say that it's a question of pay attention to the idea that all the issues that we are discussing about cannot be simply reduced to something that has to do with technology and with technological advancement and I'm saying this because I don't doubt that we are all fully aware about this into this room but if you go outside this room it's not the case necessarily. When we speak you know when we talk to parents when we talk to families when we talk and we discuss about issues in terms of how learning systems are changing because of technologies there's not this great awareness about the implications that go beyond the fact that they're using a different device or that you can do different things because there is more technology. So my talk is about governmental business models for MOOCs that means what's in it for a government and how can a government consequently support MOOCs that's the subject of this talk we have reflected on this within UDTU as I said this morning MOOCs are an educational spin-off product of research innovation and education in universities and they contribute as we have seen in Deloft to the core mission of universities sharing with education with all citizens by open accessibility that's the open education aspect then we have the CPD or professional education aspect transferring and valorizing innovative knowledge to enterprises and thirdly we have the aspect of degree education integrating MOOCs as an enriching learning experience and blended degree education of course at the institutional level as we have seen in Deloft there are many other advantages and benefits of MOOCs for degree education and for continuous professional development but now we look simply from a simple minister's point of view if he is well willing or she so these might be the objectives for a government to support MOOCs strategic knowledge sharing with citizens and society as I told you MOOCs as knowledge transfer and MOOCs to enrich to learning experience and this corresponds with as we have also seen in the example of Delft with the more and more complex pedagogical landscape we can observe in Europe but also in other western societies where universities nowadays not only deliver degree education blended degree education three cycles but also online education through open educational resources and MOOCs that's open education only possible by the internet and blended and online continuous professional development short learning programs and non-degree education and that's blended but increasingly of course also online because of the sake of flexibility as you can see on the program this session has the title cross national MOOC strategies as it has been stated in the initial panel we are facing not just Europe but the world is facing a tremendous amount of challenges problems a complex situation and of course education is the answer and open education in particular is the answer to meet these challenges but if we have been learning something from all that has been happening especially in these last months two things are pretty much important to note first of all the fact that we are all much more interconnected than we thought we were so everything is much more interconnected and we are much more interdependent from one another secondly at the same time we are also much more different than we thought we were and sometimes we tend to forget about these differences in that sense also when we are looking at open education and MOOCs is a part of open education not all of open education there are other forms of open education but MOOCs are a form of open education we should also look at this phenomenon bearing on these two conclusions as well so first of all what is happening in terms of the MOOC movement around the world is creating interdependencies we are all interdependent from what is happening across the world but we are also very much different region to region and country to country in this panel we will try to explore a little bit how these interdependencies are acting towards the development of this movement and also how these differences are important and should be taken care of in this sense we will have these two speakers first of all we will start by Mariana Patrou from the UNESCO she is a program specialist well I am sure that most of you well all of the experts in the field know very well Mariana for her contribution throughout the years in our field and we are also having Darko Jansen from EADTU he is the project manager of the home project and he is also quite an important actor in the field of open education development and in particular with the development of the MOOC concept we will start by Mariana she will of course address the issue of the global perspectives that are actually taking place in the world regarding MOOCs and then we will go to the analysis of the European contribution as you know and has already been said this morning Europe has or is actually contributing in a very special way to the development of the MOOC phenomenon not just because it has a different way of conceiving the phenomenon but because it has a legacy of knowledge and expertise and know-how on open education and this is something that is important and should also be used when we are discussing the development of the MOOC phenomenon What we try to do today but also in my presentation is to highlight that Europe is different from the United States has different calls different aims and different characteristics so for this one of the activities in the home project who is organizing this meeting as well we look at what is the American survey and what is the European thing saying so we are not only one making a questionnaire and ask people about what are the reasons to be involved in MOOCs it was it was already done by the Babson Group in the United States they already have a survey there for almost 15 years related to e-learning online learning and they provided some questions on MOOCs the last three years and then the European University Association has also made a survey in the end of 2013 so already two years ago and the publication is available online as well so what we did in the home project is to repeat the same questions from the United States and from the EUA survey and try to map what's happening in Europe I've come here because I would like to share with you some of the ideas that and some of the areas in which UNESCO thinking has been going on for some years and that we find collaboration with universities particularly with universities but also networks such as EADTU or EDEN or other associations very very stimulating for the global dialogue we have promosso and we have promosso in certi cases tre tavoli di lavoro da una parte proprio sulle linee guida nazionali almeno all'interno delle università della conferenza di rettori per la predisposizione di MOOCs di qualità una volta che abbiamo questo naturalmente un accordo tra università italiane che si riconoscano in questi MOOCs di qualità e sono disponibili a riconoscere crediti formative per quegli studenti che abbiano seguito e ottenuto la certificazione di apprendimento di these open trac for different levels of participation making it possible for students to produce discuss or just browse around within the open trac I was then teaching a course on distance education So that was easily done to integrate MOOC experiences and one project was for students that were divided into groups che partecipate in MOOCs. And they wrote reports where they analysed the courses and evaluated their experiences. They are not really a revolution, but more evolution in a long chain of education. And higher ed, Oxford is not going anywhere, or any other institution, or open university, they're not going anywhere. They're going to stay there as well. So the MOOC will find their own space where they're going to serve a particular niche and a particular domain. And then I guess if there's one fundamental takeaway for this event and to go into the Rome Declaration, we would argue that MOOCs need to be discussed in the service of big ideas, not as the big idea itself. And we feel that too much of the discussion is still about the MOOC as the big idea. For us, the big idea, you may have different views, is about access to education, equity, and some of the things we heard from the UNESCO presentation. We have diaspora all over the world. There were lots of discussion around MOOCs that we could put on for those people, and some of the institutions are going ahead and doing those already. Others were looking at smaller-scale projects, looking, again, like the Denmark example earlier, looking at building on top of some of the face-to-face courses they have already. We collaborate. We're part of various projects with EDTU. Home is one of them, as well as national projects. And our goal is to be able to cooperate with all institutions and to focus on the quality of our MOOCs and also to focus on the quality of the usage of these MOOCs by using analytics and any other tools that are available out there. How do you deal with low-bandwidth areas? Well, one of the ways you do it is you put it onto this. You allow them offline the whole course, everything, all the content, the assessments, the interaction on the forums, so that when they are away from their Wi-Fi in class, that they can actually interact with it. And people probably aren't aware of the power of the Moodle mobile app. So if you're using Moodle and you haven't, that's one of the things you certainly should consider because it does allow a lot of power in that respect. So for those projects, we're working with a few organizations right now who are doing exactly that. So we have to cut the cost to be able to offer more MOOCs and OER is a good opportunity for us to cut the cost. Also, there are a lot of funding opportunities. We should not, based on just one source, we should be looking for various funding opportunities. Education is becoming a globalized market, so you shouldn't focus too much on just the European perspective, but look at the worldwide perspective and see what makes it special for us in Europe. The key competence is ability to transform this energy from one form to another. When you look at this, that was a competency of transferring the steam, which means heat, to mechanical energy. And as a result, we had the Industrial Revolution. UNITUM is still conducting research on MOOCs. Now we are finishing a survey on more than 300 students addressing expectation and opinion post-MOOC completion. And the data we are finalizing and analyzing now is really relevant. Something like what Darko just told about the need for students, that they expect innovation and they expect flexibility. So teachers are content experts, especially university professors that we deal with, but they usually don't have any knowledge of media production, of the video production process. So they need a lot of coaching and training in this field. So that is my main message. Use video, but use it widely and make sure that you are well prepared to use it. Otherwise, you better don't. And also, we propose sophisticated user feedback through triggers and also unexpected rewards. So here, we need to have the element of surprise. Surprise your learners. For example, someone is not showing up. Have a hidden, concealed video to say, hey, you know, I haven't seen you around. So you feel like he has unlocked something. So motivate him. There are studies that have been shown, I am sure a lot of you are aware, that even if you are slightly improved, the messages that your learners, if they receive when they are completing, when they are participating in the MOOC, that increases engagement alone. Forget anything else. Just work on the messages that the platform sends. If they are more fun, if they are more personal, if they are more empathetic, you win more learning from your learners. You have some indirect motivation to be good facilitators. And I think this is the reason, if you have a possibility to create this, some support system for the student, not to keep them alone, you can reach such numbers. And really, we have been very happy about that, because really it was first MOOC in Lithuanian language, and almost about 42% of our students was a teacher in higher education and in the schools. What we do in group content mapping, instead of sitting together and discussing freely, brainstorming according to the traditional rules, we do it actually online, where with a big advantage, I would say, is that all the ideas are valued as they are, irrespectively of who is saying what, and the one who talks most, yeah, he will write more, maybe, in a virtual group concept mapping, but in the end, no one can see who came up with what idea. The most important thing is learning from the stream. So I'm open to anybody who wants to apply this and wants to know how to do it. I'm doing it in MOOC for the last three years, but in online collaboration with Romanian and American universities, where students work together for the last seven years. So come and join this, engage, and make the weaknesses of our small countries, less speaking languages, becoming much more stronger and defining the online education and the future workers. First of all, there are a number of social networks where anyone wanting to design an online experience can go to get some help. So there's, for instance, Cloudworks, a place to share, find, and discuss learning and teaching ideas and expertise. So it's a general site, but there are some postings to do with retention on MOOCs, for example, as there are on a great many other issues to do with MOOCs. And the final word is maybe, I think, the juxtaposition of two words, two terms, MOOCs and shared services is a must if we think of the global, diverse, and online students. Thank you very much. And I would love to see also this metadata-based repository in one service, in one package, with these European MOOCs and European online courses. And the last point is also very important from our point of view. So these services should be easily localizable. So I think it would be a good idea to try to share knowledge and the way of teaching. and it would be a good opportunity to do one thing every country, every university at a time. In this context, what we propose is develop and strengthen an open network for European cooperation on open education and MOOCs. As the previous conference has said, it is crucial to share services and to establish a practical way to do it, not just to say it. I think that today we have to have more than Europe in mind that without this intercultural we do not have even security. And we do not have, above all, the possibility of accepting the person of the child, of the student, as a person who has a story, but who also wants to enter into relations with others. So I think that the possibility that you have an expertise, I think that one of the five languages, I think that one of the most important things, but all of you are within a community that has been able to put together a community of knowledge, a community of knowledge, and a community of knowledge, a very deep knowledge of what are the relations of exchange, of learning, and of adaptability and also of the education in situations different ways. We now have a lot of need in Europe of this competence. So if you are in this, you should really help us to understand it. Today we are doing a conversation with the Parliament on the dialogue intercultural and on the role of education in this field. We are working on the prevention of the radicalization, which is another big issue that we have in Europe. and we are also trying to give strument to what was announced by the Commissary Mogherini, which we encourage very much, that is that of the beginning, from gennaio to febbraio, a communication of the Commission on the new diplomatia cultural european. La vostra rete di università, la vostra associazione di università europea è una gamba, secondo me, è uno degli strumenti di questa diplomazia culturale, perché guardate ormai, culture ed educazione o stanno insieme o rischiano di non essere sufficienti l'una senza l'altra. Noi siamo di fronte alla sfida, dicevo prima, di una emergenza umanitaria. Abbiamo milioni di rifugiati. Qui c'erano delle università della Turchia, e ci dicevano proprio questo problema. Ci sono moltissimi di questi bambini, ragazzi, che sono senza offerta educativa. Abbiamo approvato la settimana scorsa in Parlamento una cosa di cui sono molto fiera, una risoluzione su come garantire il diritto all'educazione durante l'emergenza e anche come aprire, e quindi anche nei campi profughi, e come aprire le nostre università, in questo caso off e online, così diciamo in due pattute, a studenti che, per esempio la Siria ci ha chiesto 5.000 ragazzi siriani chiedono di essere ospitati nelle università europee. Perché non pensare a una grande attivazione di questo discorso delle istruzioni senza frontiere col vostro aiuto? Già voi fate alcune di queste cose. Voi avete docenti di varie lingue, avete la possibilità di organizzare questo tipo di corsi. Io penso che sarebbe una bellissima forma di cooperazione. lì io l'ho chiamata corridoi educativi, come si dice humanitarian corridors, educational corridors. Ma insomma ci capiamo, questa è una prima cosa. E l'altra è quella di incoraggiare una iniziativa che so sulla quale un nettuno sta lavorando, ma io penso con tutti voi, che è quella di fare in modo però che questi ragazzi, perché possono iscriversi, spero gratuitamente, devono assolutamente talvolta ricostruire percorsi o voi dovete sapere quali sono le competenze che effettivamente hanno. Allora c'è questa idea di una portale che io incoraggio molto, mi è stato parlato di questo progetto, di un portale che possa essere, mettere insieme questo tipo di servizio e cioè dare, come dire, costruire degli schemi, degli indicatori per fare in modo che siano visibili, come si dice, che siano riconosciute le competenze e i crediti formativi e che questi ragazzi possono accedere. Questo è un progetto che io penso potrebbe essere interessante, per esempio, la Turchia, ieri, proprio ieri, è stato appena siglato un accordo per i rifugiati in Turchia che ormai sono due milioni, la Turchia oggi ha molti più rifugiati di tutta l'intera Europa, tanto per parlarci in modo molto chiaro. Ebbene, però l'Europa parla di invasione e loro no. E la Turchia però ha avuto anche una cifra considerevole di aiuto, parlo di 3 miliardi di euro. Bene, si deve pretendere da parte nostra ma da parte anche delle università e delle scuole turche che queste risorse siano anche indirizzate a questa parte dell'emergenza umanitaria. Noi abbiamo ottenuto e ho chiuso che nell'ultima seduta del Parlamento europeo abbiamo approvato in questa risoluzione una cosa importante che nel bilancio 2016 la parte dedicata alle attività educative dentro i fondi europei dell'emergenza umanitaria saranno raddoppiati. Ci sono 30 milioni in più. Allora io credo che su questo il vostro expertise, la vostra disponibilità, la vostra apertura e anche la vostra possibilità di strumenti adeguati a queste targhe potrebbe essere di grandissimo supporto e penso che potrebbe nascere veramente una grande alleanza. Aspetto quindi le vostre proposte sono completamente disponibili anche a nome della mia commissione e poi vorrei veramente nei prossimi mesi organizzare magari un'iniziativa a Bruxelles con la Commissione Cultura ed Educazione perché penso che su questo fronte noi dobbiamo sviluppare un piano, un framework europeo più forte. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.